Felice Gimondi compie oggi 75 anni e ha corso in bicicletta, da professionista, per metà degli anni 60, e per praticamente tutti i 70. È uno dei sei corridori ad aver vinto almeno una volta Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna, oltre a diverse importanti corse di un giorno. Ha iniziato e finito tutti i giri d'Italia dal 1965 al 1978, ed è arrivato sul podio nove volte su quattordici. Ha vinto tantissimo, insomma, come pochissimi altri sono riusciti a fare, eppure non è la cosa per cui è più famoso. È più famoso, perché è quello che ha corso contro Merckx. Eddie Merckx è stato il ciclista più forte e probabilmente completo di sempre. Ha vinto ogni tipo di corsa, più volte, ed è noto come il cannibale, perché voleva vincere tutto sempre, e spesso ci riusciva. Vittorio Adorni, che corse in quegli anni, ha detto che anche quando Merckx partecipava a una gara piccola e poco importante, faceva di tutto per vincere. Se c'era un traguardo parziale, a cui era associato per esempio un salame come premio, lui faceva la volata per vincere il salame. Coppi il più grande, Merckx il più forte si dice spesso nel ciclismo.